Franco Lisi ci troviamo in questa meravigliosa torre in compagnia di Gelsomina Ferrara, artista e diatrice di tutto questo Belvedere. Come nasce questa idea? Buonasera innanzitutto. Allora l'idea nasce grazie a un gruppo, si chiama Partenia Artist, è un gruppo di artisti provenienti da tutta Italia, da Trieste alla Calabria, passando poi per tutto lo stivale. Io ed altri artisti rappresentiamo la Campania. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare attraverso l'arte i territori di appartenenza e non. In questo caso siamo stati ospitati a Franco Lise, in questa dimora medievale bellissima, e abbiamo esposto più di cento opere. Diciamo che la peculiarità, la caratteristica principale di questa rassegna d'arte è quella di vedere vari stili artistici. Ognuno di noi rappresenta se stesso nelle opere, quindi c'è una lettura contemporanea, però sempre nuova, quindi in un certo qual modo non ci si annoia. Dalla locandina si vede che gli artisti sono tutti giovanissimi. Sì, allora, noi siamo, diciamo, un bel gruppo, siamo, in effetti, siamo giovani, e, diciamo, la nostra voglia di fare arte è quella di comunicare, quindi di fare aggregazione, e attraverso l'arte cercare di valorizzare quello che abbiamo di bello. L'ultima rassegna d'arte che abbiamo fatto col gruppo Partenia l'abbiamo fatta a Bacoli, nel parco vanvitelliano del Fusaro, nella sala dell'Ostrichina, per intenderci, nella casina vanvitelliana. Anche lì abbiamo esposto più di cento opere. Ci troviamo anche nell'anniversario di vanvitelli. Esattamente, esattamente, non a caso. Anche in quel caso abbiamo valorizzato, anche se non ce n'è bisogno, però, comunque, la sala dell'Ostrichina, poco conosciuta rispetto alla casina vanvitelliana, attraverso le nostre opere, perché poi arrivano visitatori da varie parti d'Italia, perché poi ognuno di noi porta dietro di sé amici curiosi, che, diciamo, ci onorano con la loro presenza, e quindi creiamo rete. Quindi facciamo conoscere i nostri posti più belli e, in questo caso, Franco Lise, che è un piccolo gioiello del nostro territorio. Ecco, lei ha detto che facciamo rete, vengono persone, amici e anche amici degli amici. In questo periodo dove si parla, siamo appena usciti da una pandemia, ma purtroppo si continua a parlare di guerre, quindi cose brutte. E questa sera, invece, anche questa sera, non è la prima serata, Franco Lise, invece, si vuole parlare del bello. Appena siamo arrivati, visto che lei stava parlando con degli ospiti, con dei visitatori, come sta reagendo la gente a questo bello? Allora, reagisce bene. Questa è una soddisfazione, perché è come se stessimo aprendo di nuovo le porte sul mondo. E lo stiamo facendo, credo, nel migliore dei modi, attraverso la bellezza. Ecco, allora concludiamo nella bellezza. Generalmente a me piace dare sempre un messaggio a chi ci ascolta. E quindi, con questo scenario così meraviglioso, in questo luogo altrettanto meraviglioso, che messaggio vogliamo dare? Allora, il messaggio che do io, ma anche a nome di tutto il gruppo Partenias, è quello di stare insieme e dare valore a quello che facciamo. In questo caso, dare valore all'arte e quindi comunicare attraverso l'arte quello che noi abbiamo di bello dentro di noi. Grazie. 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 Grazie.